Hanno creato curiosità ma anche per certi versi sconcerto e stupore le 70 croci in ferro posizionate nella centralissima piazza Valter a Bolzano in ricordo degli Stand Schützen, i volontari della milizia territoriale tirolese che nei primi mesi della grande guerra combatterono contro il reggio esercito italiano. Un'iniziativa che tra la gente ha suscitato emozioni contrastanti, chi si è fermato a guardare incuriosito, chi è apprezzato e chi invece se ne è andato via disorientato e turbato. La particolare giornata ha preso il via alle 12 della Casa della Cultura di Bolzano dove si è svolta la cinquantesima assemblea plenaria degli Schützen, tra i presenti anche il presidente della provincia di Bolzano Arno Compaccer. Nel pomeriggio invece le diverse compagnie dei cappelli piumati provenienti da Tirolo, Alto Adige e Trentino si sono ritrovati nel centro storico dove è stata programmata una sfilata con raduno finale in piazza Valter per assistere alla messa con spari a salve di tre compagnie e alla benedizione delle 70 croci. Croci che verranno poi cementate in altrettanti punti caldi del fronte della Prima Guerra Mondiale come cime, passi, cimiteri militari, fortificazioni e trincee e saranno inaugurate tutte insieme l'8 agosto prossimo. Sulle croci, tutte uguali, è stato installato un cartello quadrilingua. Al secondo posto, prima dell'Adino, c'è la scritta italiana dove si legge in ricordo dei nostri Stein Schutzen tirolesi, un'iniziativa congiunta delle 400 compagnie del Schutzen di Tirolo, Trentino e Alto Adige per ricordare, come ha detto il comandante al tuo tesino dei cappelli piumati al Martaler, i nostri.